Mi chiamarono alla fine del 39, mi hanno andato a Montecorvino Rovella, c'era il campo di avversione. Era a Montecorvino, ma praticamente era a Ponte Cagnano, perché l'aeroporto era a Ponte Cagnano. Prima ho fatto l'S1, che è qui, e poi dopo ho fatto il Breda 15, poi il Breda 25 l'ho fatto alla scuola. Il Seidman, insomma, ho fatto un paio di cose che andavamo al primo periodo. Con gli istruttori abbiamo cominciato a fare, prima niente, ho fatto 4-5 ore prima di decolare, e poi dopo che ho decolato, col CR 32. Il CR 32 è andare su e il colonnello disse, dicevo con tutti, vai su e fa acrobostia a mille metri. Grazie a tutti.